Immaginate un mondo senza Google, sul serio, un mondo senza Google, dove non potete trovare informazioni sulla persona con cui uscirete domani sera, dove non potete scoprire con un clic del mouse il pil del Kazakistan, un mondo in cui se vi sentite male non potete accendere il computer per capire se basta una pastiglia o dovete chiamare l'ambulanza. Incredibile, solo un decennio fa Google non esisteva e cinque anni prima era impossibile fare ricerche su internet. E questo era un grande problema. A che cosa serviva il World Wide Web se non ci si poteva navigare e trovare ciò che si cercava? Fra le aziende che si sono cimentate nell'impresa ce n'erano alcune tra le più rappresentative della storia di internet, come Yahoo e Excite. Ma anche se a imbarcarsi in quest'avventura ci fossero stati i giovani più brillanti degli annali dell'imprenditoria americana, nessuno sarebbe riuscito a venirne a capo. Poi due introversi cervelloni di vent'anni trovarono il bandolo della matassa. Ora vi racconto come ci sono riusciti e come sono diventati multimiliardari. Sono John Aileman e come giornalista ho seguito la rivoluzione dei motori di ricerca fin dall'inizio. La storia che sto per raccontarvi riguarda le innovazioni tecnologiche che ne sono alla base e gli enormi cambiamenti economici che ne derivarono. È un'appassionante storia di ambizione e ingegnosità, di occasioni colte e perse per sempre e di manovre e riunioni segrete di cui nessuno era a conoscenza finora. Oggi, digitando il mio nome in un qualsiasi motore di ricerca, scoprireste in pochi secondi che sono un giornalista e potreste curiosare in un catalogo più o meno completo delle mie pubblicazioni. Dal momento che esistono più di 150 milioni di siti internet e miliardi di pagine web, la tecnologia che rende possibile una ricerca molto accurata è una sorta di miracolo, un miracolo che gran parte di noi dà ormai per scontato. Dimentichiamo che poco più di dieci anni fa il web era fatto così, pagine e pagine di puro e semplice testo, lunghi elenchi di frasi sottolineate. Trovare qualcosa su internet era quasi impossibile, non restava che seguire i link e sperare che la fortuna ci facesse approdare a qualcosa di utile. Per comprendere come si è arrivati a questo punto, come è avvenuto il miracolo della ricerca, dobbiamo tornare al periodo precedente all'avvento di Google e alla storia di aziende come Yahoo ed Excite che gli hanno spianato la strada per poi diventare i suoi più accaniti rivali. Torniamo in un angolo della California di cui forse avrete già sentito parlare. Silicon Valley, California. Su questo viale lungo 50 chilometri troviamo persone che hanno il pallino di inventare il futuro e il desiderio di diventare straricche. Questa è la sede di leggendarie società tecnologiche come Apple, Intel e Oracle. Ma il cuore della Silicon Valley, la sorgente inesauribile dell'industria high-tech, la fonte di innumerevoli idee geniali, non è un'azienda, bensì la Stanford University. Qui affondano le radici dei motori di ricerca. Concentriamoci su due perdigiorno di nome Jerry Young e David Filo, che un professore abbandonò ai loro computer per un anno sabbatico. Se cercate di far capire ai vostri figli quanto è importante studiare e fare sempre i compiti, non raccontate loro questa storia, perché proprio mentre Jerry e David bighellonavano, ebbero l'idea da cui nacque uno dei business più famosi d'America e che li fece diventare miliardari. Oggi la loro azienda si chiama Yahoo ed è fra i siti più cliccati del web. Tutto cominciò quando Jerry e David cercarono di usare internet al loro vantaggio per vincere un torneo di fantabasket a Stanford. I ragazzi erano studenti di ingegneria elettronica e avevano accesso al web. Lo scandagliavano minuziosamente sito per sito in cerca di notizie sportive. David trovò il modo di collegarsi a diversi siti e ottenere informazioni sulle partite di basket della sera prima. Inseriva i dati e cercava di capire se dovevamo cambiare i giocatori, sostituirli e cose del genere. Difficile pensare a uno scopo più frivolo del fantabasket. Ma rivistando in cerca di notizie sportive in quella massa informe di dati, Jerry e David muovevano i primi passi verso la ricerca. Per capire che cosa fosse internet e che cosa avesse da offrire, serviva una sorta di guida, una directory che ti insegnasse a navigare. Idea semplice ma geniale. Una directory che aiutasse gli utenti inesperti del web a destreggiarsi in questo nuovo mondo elettronico, ma non aveva niente a che fare con la ricerca come la intendiamo oggi. Era un insieme di categorie sotto categorie dove si poteva curiosare. Era molto rudimentale, stilata manualmente da due tecnomani che passavano ore a visitare il maggior numero di siti possibili e a decidere come inserirli nella lista. Rudimentale o no, quella che i ragazzi chiamarono la guida di Jerry e David al World Wide Web fu la prima nel suo genere e diventò immensamente popolare. Milioni di utenti in tutto il mondo confluirono sul sito. I ragazzi si resero subito conto che serviva un nome più breve, immediato, efficace, qualcosa di entusiasmante. Yahoo fu una grande idea, ma una grande idea non basta per fare una grande azienda, ci vogliono soldi e molti. Ma si sa, quelli non mancano alla Silicon Valley e vengono per lo più da questi edifici lungo Sand Hill Road, cioè dagli uffici di molti leggendari venture capitalist. Non sapevo cosa aspettarmi la prima volta che sono venuto qui. Strade ricoperte d'oro o roba simile. Ma ecco cosa ho visto. Un accrocchio di edifici bassi e anonimi. Ricordo un villaggio alpino. Dietro a quelle porte però siedono i venture capitalist, gli uomini che gestiscono fondi di investimento multimiliardari. Sono loro che decidono quali start-up avranno una chance e quali non vedranno mai la luce del sole. Una delle società di investimenti più potenti è Sequoia Capital. Un suo famoso socio Michael Moritz decise di far visita ai giovani fondatori di Yahoo a Stanford. Là dentro regnava il caos più totale. Era l'incubo di ogni madre. cartoni della pizza, computer e aggeggi elettronici sparsi ovunque. Le tende tirate e una temperatura di 30 gradi. Era una fogna soffocante. Era un casino. C'erano svariate ragioni per essere scettici all'idea di investire in Yahoo. Erano solo in due e la loro strategia aziendale era, a dir poco, nebulosa. Dovevamo trovare un modo per fare soldi. Fino ad allora non avevamo avuto entrate. In realtà era ancora peggio. All'epoca nessuno aveva ancora capito come fare soldi su internet. Yahoo avrebbe invertito la tendenza, dando il via alla corsa all'oro che avrebbe preso d'assalto il web. Nel 2007, motori di ricerca come Yahoo e Google hanno totalizzato utili ricavi per miliardi di dollari, alimentando l'invidia degli imprenditori di tutto il mondo. Ma agli albori del web nessuno lo sfruttava per affari e commercio. L'idea era considerata eretica da qualcuno persino riprovevole. Ricordo le controversie all'epoca in cui il web cercava di delineare la sua cultura. A metà degli anni 90, il centro della cultura del web non era nella Silicon Valley, ma in questo piccolo parco alla periferia sud di San Francisco. Proprio qui vennero fondate la rivista Wired e la sua sorella online Hot Wired. Lavoravo qui all'epoca. L'imminente commercializzazione del web era oggetto di accesi dibattiti, da cui emergeva una sola parola. Pubblicità. La pubblicità spaccò in due la web community della prima ora. Da una parte i venture capitalist e altri istituti finanziari, convinti che internet fosse un nuovo mezzo di comunicazione e che media dovessero finanziarlo con la pubblicità. Cento anni di storia dei media ci insegnavano che se si è in grado di riunire nello stesso luogo un vasto pubblico, si può vendergli della pubblicità. Di sicuro non serviva un gran cervello per arrivare a capirlo. Dall'altra parte c'erano gli utopisti di internet, persone che vedevano nel web un luogo che prometteva la libertà. Non era un ambiente commerciale, non era frequentato da aziende, ma da un gruppo di studenti e ricercatori universitari che sperimentavano la novità. Ora Young e Filo avevano il capitale e tutte le carte in regola per fare business. Dovevano trovare il modo per fare i soldi con Yahoo? Jerry e David erano molto preoccupati delle implicazioni e delle ripercussioni del posizionamento di annunci pubblicitari sul loro sito. Temevano che gli utenti non sarebbero stati d'accordo e che si sarebbero ribellati. Per i fondatori di Yahoo era un vero dilemma. La pubblicità rischiava di far allontanare gli utenti più fedeli, ma non c'erano alternative. Che altro potevano fare? La pubblicità in quel momento ci sembrava la scelta migliore, ma naturalmente eravamo preoccupati. Fu molto dura, durissima. Non sapevamo come sarebbe stata accolta questa decisione, se avrebbe avuto contraccolpi o se avrebbe alimentato il cinismo sulle ripercussioni degli interessi commerciali, su questo mondo elettronico utopistico. Verso la fine del 95, Yahoo cominciò a ospitare annunci pubblicitari, trattenne il respiro e incrociò le dita. Inserimmo il primo annuncio con trepidazione. Ci chiedevamo, santo cielo, funzionerà? La prensione si rivelò fuori luogo. Gli utenti di Yahoo continuarono ad aumentare e più utenti significava più inserzionisti che pagavano sempre di più per mettere i loro annunci sott'occhi sempre più numerosi. Yahoo aveva dimostrato per la prima volta che era possibile fare soldi sul web. Quello fu un momento cruciale della storia e significò una cosa sola, il boom del web era iniziato. Fu quasi come lo sparo che dà il via alle corse. Nel 96 Yahoo dovette fare i conti con un ventaglio di concorrenti che acquistavano terreno, InfoSick, Alta Vista, Lycos. Ma il rivale più temibile di Yahoo era una società di nome Excite. A prima vista Excite sembrava molto simile a Yahoo. Era un altro motore di ricerca fondato da ragazzi di Stanford che però non vivevano in uno squallido monolocale nel campus ma in un altrettanto squallido a casa di periferia. La tecnologia sviluppata dal sito però era di gran lunga più sofisticata di quella messa a punto da Yahoo. Invece di una lista di siti complicata e suddivisa in categorie da esseri umani, Excite era un software. Quando si digitava la parola da cercare il servizio si collegava al web e trovava le pagine che contenevano quella parola. Era la versione rudimentale di quello che intendiamo oggi per ricerca. All'inizio eravamo diciassettesimi su diciassette. Sapevamo che di lì a un anno saremmo stati i numeri uno o saremmo scomparsi del tutto. Se ci si sente minacciati dal pericolo di estinzione si tende a competere con accanimento. L'avidità, l'ambizione e l'impazienza prendono il sopravvento. Nel 97 internet stava per esplodere a causa dei milioni di persone che si affollavano in rete per scoprire il motivo di tanto fermento. Yahoo, Excite e altri motori di ricerca si stavano trasformando nei cosiddetti portali, siti che offrivano ogni sorta di diversivo, consigli finanziari, email, chat room. Erano autentici carnevali online tappezzati di messaggi e immagini lampeggianti concepiti per trasformare gli utenti in un pubblico a uso e consumo degli inserzionisti. Tutto questo innescò una corsa all'innovazione e una concorrenza estrema che divenne insostenibile. Noi lanciavamo la personalizzazione e Yahoo lanciava la personalizzazione. Yahoo lanciava l'e-mail e noi lanciavamo l'e-mail. Io uso Yahoo per scrivere un libro su come schioccare le dita. Nei primi anni era tutto confuso. Nessuno pensava che sarebbe diventato... Benché i motori di ricerca stessero riscuotendo un grande successo, si stavano trasformando in qualcosa di diverso da ciò che erano all'inizio. Concentrandosi sull'ostentazione, avevano perso di vista quello che in passato aveva richiamato gli utenti, cioè la necessità di trovare informazioni in web in continua espansione. In altre parole, i motori di ricerca smisero di occuparsi di ricerca. In sostanza, nel posizionamento di informazioni rilevanti sul web, Yahoo, Excite e altri cosiddetti motori di ricerca lasciavano francamente a desiderare. Passare anche un'intera giornata a digitare svariate combinazioni di parole per trovare quello che si cercava non portava a niente. I risultati erano per lo più link a siti che cercavano di vendere prodotti indesiderati e fin troppo spesso spazzatura. Ci voleva un modo migliore per fare ricerca nel web. Questo venne dalla stessa identica fucina che aveva creato Yahoo ed Excite, Stanford.